Cosmoprof Quindi il brand, farlo vedere a tutti, anche e soprattutto ai nostri clienti Perché dal punto di vista commerciale è un'opportunità per venire, per riunire tutti i nostri partner Italiani e internazionali, ma soprattutto per intessere nuove relazioni Quindi credo che l'obiettivo della fiera sia sempre quello, anche perché le aziende vogliono crescere Ogni anno bisogna farlo sempre di più Abbiamo diverse novità, diverse novità che rappresentano un po' la nostra mission Nel senso che quest'anno tutti i progetti di prodotto riguardano sostanzialmente il poter dare all'acconciatore delle soluzioni qualitative Quindi partire dalla loro esigenza e risolverla sia dal punto di vista economico che tecnico